Funziona la terapia, serve tanto, una cosa che mi dice la mia psicologa è che comunque non serve solo nei momenti critici, ma serve sempre la psicoanalisi, la psicoterapia. Se ne hai bisogno non va trascurata, non va sottovalutata. Se tu fai quello che ti dice un dottore non ti porta a stare peggio, ti porta a stare meglio. Prima che la gente ha tante debolezze e quindi dice a cazzo è tre giorni che prendo i farmaci però mi serve, allora bevo. Io per dire in quel periodo assumevo solo farmaci, non toccavo una birra. Io so che mi è stato utile nei momenti peggiori, senza quel supporto non ce l'avrei fatta.